C'è quello spunto! Attenzione attiva! Ci abbiamo all'intervallo a reti inviolate. Direi a sorpresa vista la disparità di valori sulla carta. Ma si sa, il calcio è strano. Hai detto bene Fabio, il calcio è strano. Il calcio non si gioca sulla carta, ma in campo. E il campo fino a questo momento è in perfetto equilibrio. Va via di forza. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Riceve il passaggio. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Beh Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Ecco che provano dall'altra parte. Prosegue nella sua corsa. Dilemans. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Errori che potrebbe mettergli nei guai.